buongiorno ragazzi questa mattina andremo a pescare in piemonte ci guiderà in questa battuta di pesca il grande luca elia e speriamo di fare delle belle catture a tra poco ecco il grande luca che ci fa da guida oggi, adesso sto speciando gli arviglioni però grazie 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 c'è andata grande Beppe grande, grosso ora proveremo a pescare in questo tratto del King un posto veramente fantastico sono Sislami questo l'accendo come stiamo? sono sempre tu? sono sempre inizi tutte nelle aria per questo giocchetto che fanno stringi un po' il manso ok ciao ragazzi adesso siamo qua insieme a Beppe che è il responsabile del tratto King Sides della Mora e ci descrive le caratteristiche di questo posto fantastico per la pesca alle trote ciao a tutti tratto particolare abbiamo adibito a riserva nasce dal Sesia il primo tratto comunque è molto naturale come potete vedere abbiamo fatto una riserva particolare nel senso che cerchiamo di mettere pesci fuori dal comune sia a livello di taglia con iridee fino a 60-70 cm sia a fario e infatti abbiamo visto delle trote fantastiche di dimensioni ragguardevoli veramente combattive per pescare qui ci facciamo raccontare che tipo di tecniche si possono utilizzare e come si fa a effettuare il permesso allora innanzitutto noi condividiamo due tipi di permessi cioè il no kill nel quale la pesca va esclusivamente fatta con esche artificiali e ardiglioni schiacciati perché chiaramente se uno fa il no kill deve salvaguardare il pesce il più possibile ma abbiamo l'altra possibilità cioè quello di trattenere perché comunque sono pesci messi anche per essere trattenuti e essendo pesci di taglia abbiamo la possibilità sia di pescare con gli artificiali che andare a fare la classica pesca al topo che sia col verme la camola o altre tecniche abbiamo anche creato una pagina facebook ad hoc praticamente king size tratto mora dove cerchiamo comunque di tenere aggiornati il più possibile i ragazzi che vogliono venire sul tratto sulle emissioni sulle caratteristiche dell'acqua se ci sono delle problematiche e tutto quello che concerne il discorso pesca ha aggiornato il più possibile i permessi per pescare in questo posto si possono fare nei bar nelle strutture qua del paese vi lo consiglio veramente a questo punto ci mettiamo in pesca ciao a tutti ciao 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 I'm waiting to take you home Through the fire we will go Underneath the sparks we glow Take a chance we don't have long We'll be burning on and on We'll be burning on and on Through every path to the unknown I'll be the light that leads you home When the world is tumbling down I will be the ground that breaks your fall I'll save you from it all, no Through the fire we will go Underneath the sparks we glow Take a chance we don't have long We'll be burning on and on We'll be burning on and on We'll be burning on and on Broken pieces, who I used to be Seem to scatter, or I seek release My breath will silence, the cold air leaping me Don't let me be forgotten, to let this be for nothing, oh An hourglass is breaking, the sin inside Escaping your silhouette, it's all I see Hi guys, this day here in Valsesia is finished, we are just enjoying fishing on the Mora torrent And in the surrounding areas, it's really a spectacular And at this point we give an appointment to the next adventure Ciao to all Thank you Thank you